essere un trasformatore energetico di marica moretto 23 gennaio 2021 oggi voglio parlarvi delle anime che possono essere identificate come trasformatori energetici innanzitutto posso dirvi che il mondo minerale vegetale e quasi tutti gli animali lo sono per quanto riguarda invece le anime umane di questo tipo non sono migliori o peggiori di altre non sono per forza più evolute o più elevate semplicemente hanno questo incarico e se ho scelto questo argomento ora è perché in questo periodo proprio loro hanno molta difficoltà nel procedere a causa dell'intensità del lavoro energetico che stanno svolgendo l'hanno scelto prima di incarnarsi qui per aiutare il pianeta nella purificazione della vecchia energia e quindi avviare l'espulsione dell'energia dolore connessa alle memorie millenarie di questo mondo e ne hanno scelto l'intensità e la quantità da trasformare in base alla propria disponibilità possiamo dire che contribuiscono in modo non più importante di altri ma di certo più specifico nel nel riequilibrio energetico per portare le frequenze a un livello maggiore in quale modo alcune anime hanno scelto la modalità più difficile attraverso il sacrificio più elevato e puro e quindi sacrificio di se stessi della propria vita quelle che vengono considerate come stragi collettive o catastrofi sono semplicemente la scelta di ogni singola anima di contribuire attraverso il proprio sacrificio a un lavoro amplificato atto alla compassione che diventa il fulcro del lavoro di ascensione di questo pianeta il regno animale conosce bene questa modalità in quanto molto spesso sceglie la trasmutazione della vecchia energia attraverso sacrifici collettivi è certo che questo non va osservato attraverso l'ego che tende a giudicare ciò che invece è il più grande atto d'amore le anime che scelgono di farlo ottengono così una rapida evoluzione ovvero un'accelerazione della propria crescita spirituale è un innalzamento delle proprie frequenze proprio grazie alla qualità di questo intento così puro oltre che ovviamente a contribuire enormemente all'aiuto del collettivo essere trasformatori vibrazionali significa prima di tutto assorbire e farsi carico delle informazioni dolore dove hanno maggiormente risonanza con le proprie ferite karmiche ecco perché la loro sensibilità è maggiore per sentire in profondità il dolore di questo pianeta e poterlo rivivere emotivamente trasmutandolo attraverso l'accettazione il perdono la compassione e l'amore il corpo fisico lo rivive attraverso malattie a volte oppure attraverso malesseri fisici di vario genere e di varie entità per spiegarlo meglio possiamo dire che ogni anima trasformatrice attraverso il proprio karma personale si aggancia al karma collettivo attraverso il proprio corpo di dolore si identifica al dolore collettivo e lavora in simbiosi con esso guarendo il proprio karma personale guarisce il collettivo è una dinamica che avviene spontaneamente quindi il sentire ne è inondato e il corpo fisico profondamente provato certo questo avviene perché le anime incaricate di trasmutare le basse energie hanno la capacità di assorbire quantità considerevoli di informazioni di dolore hanno la capacità di elaborare attraverso il proprio vissuto e attraverso la propria energia che possiede vibrazioni appropriate per svolgere tale lavoro ovviamente il libero arbitrio può rallentare o accelerare tale processo in base alle proprie scelte personali ma non bloccarlo in quanto l'anima è ciò che ha scelto di essere il karma collettivo non è un'idea e non è un castigo è semplicemente un riequilibrio della vecchia energia attraverso nuovi intenti e nuove nuove azioni possiamo dire che il karma è semplicemente possibilità di riequilibrio che induce all'evoluzione come si fa a comprendere se si è trasformatori energetici una sensibilità amplificata è la capacità più adatta per svolgere questo compito quindi se avete una grande sensibilità se percepite in modo empatico più di quanto vorreste se spesso venite travolti dal dolore che avvertite intorno a voi se entrando in un ambiente ne percepite le informazioni più recenti e più antiche depositati in quel luogo se con la natura avete un contatto profondo tanto da sentire ogni più piccola ferita depositata se sentite la sofferenza altrui nel cuore nell'anima nelle ossa se il vostro corpo reagisce spontaneamente assimilando il dolore altrui se ciò che sentite fisicamente ed emotivamente vi sembra fuori controllo per la troppa intensità se piangete ogni qual volta percepite il dolore all'esterno seppur riconoscendolo come non vostro se avete la capacità di portare il buon umore dove più difficile se riuscite con facilità a capovolgere situazioni negative solo con la vostra presenza se portate il buon umore ovunque se il vostro sorriso è una cura per gli altri allora sì è molto probabile che voi lo siate non c'è un modo per proteggersi da questa sensibilità per soffrire meno perché è ciò che si è è ciò che si è scelto di fare ma di certo accettando queste capacità come dei talenti preziosi piuttosto che come debolezze questo aiuta molto e conduce alla centratura e alla lucidità nel portare avanti questo compito ciò che conta davvero e farlo con umiltà e intelligenza riconoscendo i propri limiti emotivi e fisici e avendone cura nessuno è un supereroe e nessuno deve considerarsi tale è fondamentale imparare a sdrammatizzare le basse vibrazioni con cui si viene in contatto e non prendere le cose troppo su serio ma alleggerirle l'ironia è un ottimo trasmutatore essere un trasformatore energetico non significa certo essere un salvatore dell'umanità questa etichetta è di una pesantezza incredibile solo a pronunciarla lo sentite vero quindi riconosciamo questa capacità semplicemente come uno dei tantissimi strumenti di un piano perfetto che opera nelle forme e nelle modalità più molteplici e viviamolo perché no come un bellissimo gioco perché in realtà tutto lo è marica moretto voce marina grazie a tutti